Tanto dobbiamo evidenziare che è un evento straordinario, non sono eventi che si verificano ogni anno. Nella storia di questa città, di queste realtà, ci sono già stati fenomeni simili. Mi ricordavano che nel 1979, per esempio, a Gimarra aveva mangiato, aveva eroso anche parte della terrazza del chiosco bar. Però al di là di questo aspetto bisogna pensare come intervenire e soprattutto come prevenire anche fenomeni di questo tipo a cui saremo sempre chiamati maggiormente. E poi va anche detto, in prospettiva non nel breve ma nel lungo periodo, c'è un nuovo fenomeno che è quello che il mare Adriatico si sta alzando. Noi non è che possiamo far finta che queste cose non esistano. Per quello che riguarda la costa della nostra città, sono fenomeni diversi con interventi di tipo diverso. Qua dove ci troviamo ora c'è stato l'intervento più dannoso, dove effettivamente ha creato maggiori danni. Ecco, qui dovremmo ripensare un ripascimento per la prossima estate, ovviamente sperando di avere tutte le autorizzazioni della regione. Ma bisogna anche aprire un nuovo discorso con anche ferrovie dello Stato perché ovviamente questo aspetto interessa anche il tratto ferroviario in quanto durante i giorni della tempesta, se così possiamo chiamarla, l'acqua è arrivata fino al muro di protezione della ferrovia stessa. Quindi insieme a loro, che hanno anche risorse importanti, possono aiutarci a fare interventi di rinforzo qua delle scogliere. Poi c'è tutta la parte di Sassonia, dove lì siamo in un percorso avviato. Adesso in questa settimana dovrebbe uscire la pubblicazione del bando per il primo intervento e a breve attendiamo la fine di novembre per gli ultimi passaggi anche insieme alla regione, per il finanziamento e dovremmo andare alla gara anche con l'altro intervento. Quindi realizzando tutta l'opera che era stata progettata sin dall'inizio. Poi c'è tutta la parte sud, dove anche lì sono stati problemi importanti. Lì abbiamo altre risorse per alcuni interventi di rafforzamento. C'è un progetto che stiamo avviando con la regione RFI per altri 4 milioni nella parte sud del Metauro. Quindi insomma sono previsti interventi importanti, però ecco dobbiamo essere consapevoli e che dobbiamo anche confrontarci con i fenomeni naturali che sono sempre più forti e più incisivi.